Doveva essere una battaglia, lo è stata, però è bello vincerle le battaglie. Sì, ovvio, dà molta più soddisfazione. Doveva essere una battaglia, ce l'aspettavamo. Ovvio che avevamo la possibilità di essere un po' più concreti e anche loro non hanno fatto una partita proprio perfetta, però questa è a palla a volo, quindi va benissimo così. Loro hanno sbagliato meno prima, però voi avete fatto un quarto eccezionale. Sì, è successo un po' come con la Villa, abbiamo giocato un po' a set alterni. Secondo me oggi abbiamo giocato un po' meglio, perché anche loro non hanno giocato una brutta partita, anzi, anzi. Quindi dai, siamo contenti, siamo soddisfatti. Ho detto anche con Bigarelli che è stata una battaglia quale doveva essere e le battaglie è meglio vincerle. Ma è stata una battaglia come ci aspettavamo, onestamente. Questa squadra è una squadra forte, una squadra molto esperta, è una squadra che punta al massimo. Perciò in questo scorcio di partita, in questo scorcio di campionato, dovevano tirare al massimo della posta, perché ora con due partite di scarto rischiano di non giocare più per i playoff, anche perché c'era una partita da sostare. Noi siamo sempre lì, diciamo che non ci siamo espressi nel miglior modo che possiamo, ma sappiamo benissimo che quando c'è una posta in palio molto importante è difficile giocare sciolti. La cosa importante è che abbiamo recuperato, soprattutto mentalmente, di carattere. siamo rimasti lì, attaccati alla partita, anche quando avevano il pallino in mano loro, fino a che non siamo riusciti a trovare il nostro pertugio. È un grosso premio per tutti, ma soprattutto per i ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine.